E dal blog Beppe Grillo boccia le politiche economiche degli ultimi governi, l'Europa deve cambiare l'affondo dei 5 stelle. Francesco Cristino. Primo maggio all'attacco per i 5 stelle. Sul blog Grillo ne approfitta per bollare come scellerate le politiche economiche dei governi degli ultimi 20 anni. Colpevoli, secondo il leader 5 stelle, del disastro occupazionale e della desertificazione delle imprese. Se non salviamo le piccole e medie imprese, per l'Italia non c'è speranza e l'avvertimento. Andremo lì e gli diremo o diventi un'Europa che parla di lavoro, che aiuta le piccole e medie imprese, fa una legge europea sul reddito di cittadinanza, oppure ce ne andiamo noi dall'Europa con il referendum sull'euro. E in una intervista alla stampa slovena Grillo rincara poi la dose. Basta democrazia delegata dice l'Europa diventi dei cittadini, non delle istituzioni e dei banchieri e rilancia. Vinceremo. Noi, infortunatamente, abbiamo mitigato questo fenomeno della destra o transista perché facciamo da cuscinetto. Il Movimento 5 Stelle è l'assicurazione sulla vita di questi viechi individui che andranno via, perché noi vinceremo le elezioni politiche sui dati europei e vinceremo anche le politiche in Italia. Tutto pronto intanto per il tour elettorale di Grillo in vista delle europee del 25 maggio. Il via lunedì da Cagliari, chiusura a Roma il 23 maggio in piazza San Giovanni.